Allora, Angelo, siamo qui dopo questa brutta sconfitta, però ancora il torneo di lungo, siamo solo all'inizio. Dove volete arrivare e cosa ne pensi le capacità di oggi? Allora, la partita di oggi, diciamo, come abbiamo fatto la squadra, sono gli amici che ci conosciamo da ora arrivare. Noi, campioni, professionisti, non chiamiamo a nessuno, noi di squadra giochiamo solo noi tra di noi. Non breghiamo nessuno, chi vuole venire qua e gioca solo per divertirci. Il nostro obiettivo è solo quello di divertirci e di passare una retta insieme tra le ragazze. Dici, tu sei il dirigente di questa squadra e miglioreremo per le prossime partite? Sì, sicuramente, faremo anche i risultati. Anche perché, diciamo, a livello, non giochiamo nessuno a giocare a calcio, tutti quanti lavoriamo, abbiamo un'età media di 35 anni a salire, quindi, a salire, siamo ora per 35, quindi, diciamo, il nostro scopo, ripeto, è quello solo di divertirci. Ma ci sarà qualche innesto perché in queste partite mancava qualcuno? Allora, io direi di non buttare nessuno, però oggi ci sono dei ragazzi che giustamente giocano meglio di noi, però la cosa nostra è di giocare tutti quanti, non c'è che il superiore gioca, facciamo un po' ciascuno e giochiamo tutti quanti. Comunque, solo che, devo dire una cosa, solo che chi gioca con noi non è chi gioca sul belluto, diciamo che noi mettiamo la gara alla pelle. Poi stasera è la prima partita che giochiamo insieme, aveva dieci anni che non giochiamo insieme, quindi ci può stare anche. E anche il beco di chi trovassi tutti insieme. Certo, questa qua è la prima parte. Va bene, in bocca al cubo per il campionato, in bocca al cubo. E questo è il campionato.